Ciao a tutti e buon 2020, buon anno! Voglio iniziare il 2020 pubblicando qualche video in più e speriamo di riuscire a mantenere questa promessa. Iniziamo subito con il primo video del 2020, si tratta dei miei regali di Natale. Mi raccomando continuate a seguirmi, lasciate un like ai video e iscrivetevi al canale. Mi trovate anche sui canali social che vi trovate in sovraimpressione. Ciao! Buongiorno, buongiorno a tutti, buon 2020. Prima storia di questo nuovo anno e si inizia proprio oggi, 6 gennaio. Iniziamo con le storie che parlano dei miei regali di Natale e degli acquisti fatti con i saldi, i primi saldi dell'anno. Il primo regalo che vi mostro è questo set in coordinato biscottiera e piatto, tutti e due con la decorazione natalizia in porcellana. Il secondo regalo è il bollitore della Vialetti, eccolo qua in questo color oro-rosa rame, molto carino. È il classico bollitore americano, quello che si vede in tutti i telefilm. La cosa stupenda è che va sia sui fuochi, che sulle piastre di induzione, che sul fornello elettrico. Non va in lavastoviglie, però è davvero capientissimo. Da qui si inserisce l'acqua e poi dovrebbe fare il classico rumore, lo sfiatto, insomma, quando arriva la debollizione. E il tè è pronto. Poi ecco il DVD di A Star Is Born con Bradley Cooper e Lady Gaga. Un film bellissimo che ho appena visto, non l'avevo visto quando è uscito al cinema, però finalmente lo posso rivedere tutte le volte che voglio. In tema cucina abbiamo ricevuto questa coppia di bicchieri barra tazze, da caffè o comunque da tè, che si possono riutilizzare perché sono in materiale lavabile e sono molto carine. Hanno tutti questi decori sulla tazza, appunto, la scritta bistro, le petit café. Sono state acquistate da Maison du Monde e c'è scritto sul tappo, che è in silicone, di fare attenzione perché il contenuto è molto bollente. Sono davvero molto belle. Il nostro Babbo Natale è davvero speciale perché ci porta regali da tutto il mondo. Queste tazzine di Starbucks da caffè, come vedete, sì, sì, è proprio il formato da caffè espresso, arrivano dal Kansas. E, appunto, è un Babbo Natale speciale perché ci porta i regali anche dall'America. Belle, bellissime. Io ho collezione tazze di Starbucks, qualche volta dovresti averle viste nelle mie foto. E, sì, queste si aggiungono alla collezione delle tazzine da caffè. Il Babbo Natale è davvero speciale e dall'America ci ha portato questo appendino del No Ghost di Ghostbusters. Abbiamo ricevuto un altro appendino, questo qui è a forma di cornetto ed è da una parte grezzo, in terracotta grezza, e dall'altra invece colorato nel tipico colore rosso. Credo di si aggiunta al termine dei regali di Natale. Questo è il regalo del mio compagno, del mio fidanzato. È un portafoglio di borbonese ed è in nero come colore, è ovviamente la tipica fantasia di borbonese, nero e grigio. Allora, è fatto in questa maniera. Ha all'esterno una grande cerniera che apre lo scompartimento degli spiccioli. scomplicato con una mano. Poi c'è la grande tasca qui davanti che ci porta all'interno dove ci sono le varie taschine dove mettere appunto testere, carte di credito, eccetera. Qui sul lato c'è una grande tasca, anche qui è un'altra piccola cerniera dove io ho messo alcuni bigliettini da visita. E due enormi tasche dove mettere appunto le banconote. È grande, capiente e sinceramente è bellissimo. Mi piace tanto. Ovviamente quello del portafoglio non era l'ultimo regalo di Natale. Perché? Perché un altro regalo di Natale è rimasto in cucina. È un libro ed è questo qui. Qui è il libro di Benedetta Rossi, in cucina con voi, tratto dalla trasmissione televisiva fatto in casa da Benedetta su Real Time. O su Food Network, sì, forse Food Network. Insomma, il libro è rimasto in cucina perché ovviamente lo sto ancora sfogliando e studiando. Chi mi ha regalato questo libro ci ha tenuto a farmi sapere che il libro è autografato. L'ha acquistato tra quelli autografati da Benedetta, con affetto Benedetta. Io non sono potuta andare alla presentazione del libro qui a Bari e mi hanno regalato appunto il libro, nonostante io non ci fossi con l'autografo. Il video termina qui. Spero ti sia piaciuto. Non dimenticare che per sostenermi basta lasciare un like, commentare il video, condividerlo sui social ed ovviamente se non sei ancora iscritto iscriviti al canale. Spunta anche la campanella e potrei essere avvisato tutte le volte che pubblico un nuovo video. Ciao e alla prossima! Ciao!